Il Vescovo Miniero incontra gli studenti del territorio diocesano per riflettere sul tema Trasfigurazione e bisogno di luce interiore La comunità di Vallo a Lutto si è spenta a Luigina Palladino, storica dipendente del comune vallese Intanto a Sala Consilina non c'era falla, anziano rimasto gravamente uschionato davanti al caminetto Brumotti pronto a raccontare a bordo della sua bici le bellezze del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, a Roma la proposta del presidente pellegrino e del ministro Costa Nel Vallo di Diano lo spettacolo delle cicogne Ad Agropoli e Sapri tutto pronto per il Carnevale 2019 La corrida di Agropoli in diretta su SET TV Benvenuti e ben ritrovati in un appuntamento con le informazioni di SET TV Un bel momento questa mattina presso la Sala della Provvidenza di Vallo della Lucania Il Vescovo Ciro Miniero ha incontrato una folta rappresentanza di studenti Sono arrivati da Agropoli, da Capaccio e naturalmente dagli istituti superiori di Vallo della Lucania Un momento di incontro, di confronto sul tema, trasfigurazione, bisogno di luce interiore E il Vescovo naturalmente è stato accolto con un lungo applauso Vediamo Sono arrivati da Capaccio e Agropoli per unirsi agli studenti di tutto il Cilento che ogni giorno frequentano gli istituti superiori di Vallo della Lucania Una bella delegazione di giovani arrivati presso la Sala Provvidenza per incontrare il Vescovo Monsignor Ciro Miniero Un momento di incontro, di confronto tra gli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado degli istituti presenti sul territorio della Diocesi di Vallo La mattinata è stata l'occasione, alla luce del convegno diocesano celebrato nello scorso luglio, per riflettere insieme sul tema trasfigurazione, bisogno di luce interiore È un momento di incontro che già da qualche anno stiamo avendo ed è bello vedere una rappresentanza delle scuole superiori della nostra Diocesi che si confrontano con quello che fanno e anche con le loro speranze mettendo sul campo le loro energie, è una cosa molto bella Il mondo della scuola, dopo la famiglia, unitamente alla chiesa è il primo momento in cui questi ragazzi si incontrano, si confrontano quindi è un momento per parlare anche ai docenti, ai dirigenti Certo, la scuola è una realtà importantissima per la società e la dobbiamo veramente tutti quanti sentire nella nostra vita, nel nostro DNA perché significa confrontarsi, significa crescere, significa comunicare quello che una società ha costruito nella sua storia e che la rende viva nella esperienza della comunità scolastica quindi è un momento bello dove anche noi con gli insegnanti di religione siamo presenti per poter riflettere su alcune questioni e questo è importante Sono il futuro del nostro territorio, del territorio diocesano del Cilento speriamo di riuscire a garantire loro un futuro Ma certamente, certamente, è un augurio che anch'io faccio Buon anno scolastico ancora Ad aprire l'incontro i brani proposti dal liceo musicale Parmenide di Vallo della Lucania Ad animare l'incontro Donaniello Carinci dell'ufficio diocesano per la pastorale scolastica in prima fila i dirigenti scolastici La mattinata è stata aperta con l'ascolto dei brani proposti dal liceo musicale Parmenide di Vallo Sì, arrivare al cuore di questi ragazzi ma soprattutto far nascere loro quel desiderio di andare in profondità alla loro coscienza attraverso un momento di riflessione e questo momento di riflessione nasce dalla volontà del Vescovo di raccordare un po' tutti gli istituti presenti sul territorio diocesano e dare loro l'opportunità di incontrarsi Il suo messaggio è questo giovane che parla di Vallo Tanto giovanotto non sono comunque ho lo spirito giovanile da comunicare da comunicare loro la bellezza della vita e di ricercare in essa le opportunità che essa ci dà Il mondo scolastico è il primo momento in cui i ragazzi si incontrano e si confrontano quindi un momento di fondamentale importanza Già il tema, trasfigurazione, bisogno di luce interiore indica il cammino del ragazzo a ricercare dentro di sé quella luce anche attraverso i vari strumenti la parola del Signore, lo studio, quindi la conoscenza per arrivare a delle scelte motivate e quindi più che risultare essere un problema la realtà giovanile dovrebbe essere veramente un'energia anche per il nostro territorio In prima fila i dirigenti scolastici noi abbiamo ascoltato Massanova dirigente scolastico dell'Istituto Parmenide che quest'anno ricordiamo compie 100 anni e poi Cosimo Petraia dirigente scolastico del Cenni Marconi Sentiamo È bello vedere qui riuniti tanti giovani da tutte le scuole della Diocesi di Vallo ed è da apprezzare il nostro Vescovo per questo tipo di iniziativa perché penso che la voce della Chiesa quindi sia importante soprattutto in un periodo come questo in cui un po' le certezze vacillano per cui avere anche un'idea di quello che l'agenzia chiamiamola così, va, più antica che esiste ci dice, penso che sia importante I ragazzi devono avere dei riferimenti voi dirigenti scolastici siete un po' come dei padri all'interno di un istituto Sì, tra l'altro sempre di più perché a fronte di quella sfrontatezza di cui sembrano dotati i ragazzi moderni in effetti c'è una forte fragilità per cui molto spesso i docenti in modo particolare si trovano a dover affrontare anche situazioni particolari e devono essere rassicuranti nei confronti di generazioni che chiaramente devono crescere Certo, oggi è una giornata importante voluta dal Vescovo Ciro Miniero ogni anno incontra i ragazzi del primo anno dei vari corsi di studio di Vallo è un momento per augurare loro tutto il bene per il percorso di studi che stanno per affrontare hanno iniziato ad affrontare ed è un momento anche per riflettere su quello che è la tematica del giorno la trasfigurazione e la luce praticamente di cui i nostri cuori hanno bisogno come i nostri occhi hanno bisogno del sole diceva Sant'Agostino quindi è una giornata molto bella e importante io fra le altre cose sono onoratissimo perché vado a fare un saluto in nome di tutti i dirigenti delle scuole di Vallo quindi bellissima giornata lei rappresenterà la scuola certo, io rappresenterò la scuola farò semplicemente un saluto il mio non un intervento però sono onorato veramente il messaggio che deve arrivare a questi ragazzi sono il futuro del Cile è che devono lavorare con passione con il cuore se non c'è passione non si raggiunge nulla questo è il problema bisogna affrontare il corso di studio qualunque esso sia perché la nostra società ha bisogno di tutti gli indirizzi di studio non ce n'è uno più importante di un altro bisogna però lavorarci con passione per cercare di raggiungere quelle competenze che poi servono nella vita le competenze che ogni indirizzo di studio qualunque esso sia da perché saper leggere scrivere come si diceva una volta o adesso di comunicare nella lingua madre comunicare in una lingua straniere imparare ad imparare leggere e comprendere un testo diciamo la cittadinanza attiva quindi avere coscienza di essere un cittadino conoscere quella che è la nostra costituzione il nostro regolamento quelli che sono le ricci sono principi questi che e competenze che da qualsiasi scuola le competenze digitali cioè oggi realmente tutti gli indirizzi poi ogni scuola si differenzia per le materie specifiche di indirizzo e i giovani però devono affrontare questi percorsi di studio con la consapevolezza di quello che hanno scelto e lo devono affrontare con la passione Andiamo avanti con una triste notizia la comunità di Vallo della Lucania lutto per l'improvvisa scomparsa di Luigina Palladino eccola qua la vediamo e la ricordiamo in questa foto storica dipendente del comune di Vallo della Lucania e beh Luigina è stata ritrovata priva di vita questa mattina all'interno della sua abitazione il decesso a seguito di un malore una morte improvvisa che naturalmente ha sconvolto tutti i colleghi di lavoro ma sconvolto l'intera comunità di Vallo Luigina ecco ha dedicato la sua vita al servizio della comunità vallese e non solo proprio quale dipendente del comune di Vallo della Lucania ci uniamo pertanto come redazione anche a nome dell'editore Giorgio Scelsa al momento di dolore che ha colpito la famiglia Palladino e dunque la grande famiglia del comune di Vallo della Lucania altra tragedia quella che arriva dal Vallo di Diano dove Pasquale Lopardo di 89 anni non ce l'ha fatta si tratta dell'anziano rimasto gravemente ossionato a sala Consilina dopo essersi addormentato vicino al caminetto a trovarlo ricordiamo il fratello già in gravissime condizioni ebbene dopo un giorno di agonia il decesso nell'ospedale di Brindisi dove era stato ricoverato e trasferito in elisoccorso dopo un primo momento di ricovero all'ospedale di Polla le scintille del caminetto hanno avvolto coperte e abiti e sono state troppo gravi le ustioni riportate cronaca ai carabinieri della compagnia di Agropoli diretta dal capitano Manna nella mattinata del 28 febbraio hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un 36enne polacco dimorante a Laureana Cilento lo straniero lo scorso 17 febbraio era stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate per il reato di furto aggravato in danno ad un esercizio di ristorazione lo stesso successivamente sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora il 21 febbraio era stato sorpreso dai militari di Torchiara fuori dalla propria abitazione in orario notturno quindi in violazione delle prescrizioni imposte dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo della Lucania e voltiamo decisamente pagina torniamo a Roma dove ieri mattina è stato presentato alla presenza del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa e del Presidente dell'Enteparco del Cilento Vallo di Diano e al Burni Tommaso Pellegrino il cortometraggio realizzato da Brumotti inviato di Strescia la Notizia cortometraggio che rende omaggio anche al territorio cilentano e nell'occasione ecco il Presidente Pellegrino ha avanzato a Brumotti la proposta di realizzare un lavoro esclusivamente nel territorio dell'area protetta vediamo abbiamo già firmato abbiamo già definito e credo entro Pasqua già De Gollino prima ecco così vuol dire prima di Pasqua si è tenuta ieri a Roma la presentazione di Brumotti per l'Italia un documentario di un tour di 19 giorni alla scoperta dell'Italia la presentazione è avvenuta presso il Ministero dell'Ambiente alla presenza del Ministro Costa di Marco Magnifico Vicepresidente Esecutivo FAI del Presidente del Parco Tommaso Pellegrino e di altri rappresentanti del territorio protagonista quindi anche la provincia di Salerno e in particolare la costiera amalfitana e il comune di Camerota il documentario promuove l'Italia da percorrere in bici mostrando i suoi angoli più suggestivi il Presidente del Parco Tommaso Pellegrino ha subito lanciato la proposta di un nuovo lavoro dedicato questa volta interamente al Cilento quindi essendo un po' adesso a prescindere dalle sezioni ma anche dal patrimonio che abbiamo perché noi possiamo dire che oggi è l'unica area protetta in Italia ma io penso anche in Europa e al mondo ad avere 3-4 riconoscimenti UNESCO è difficile trovare un'area omogenea ad avere 4 riconoscimenti UNESCO in termini di biodiversità ci è riconosciuto da tutte le attività scientifiche che vengono svolte in Italia a livello internazionale noi siamo uno scrigno di biodiversità assolutamente unico paesaggi che abbiamo visto con Vittorio perché abbiamo visto un piccolo assaggio quindi abbiamo veramente un patrimonio straordinario e sono contento e ringrazio Vittorio per aver fatto una delle tappe importanti nel nostro parco perché lì non è il parco che io mi permetto di dire che fa piacere anche a Miso è un po' dice il simbolo di tutte le aree protette italiane cioè del valore e dell'importanza delle aree protette italiane ecco perché mi fa piacere oggi dire che quella bella iniziativa del Fai che ovviamente ha avuto un'infinizione straordinaria perché perché Vittorio è un po' quel testimonial vero ma quel testimonial di quella sostenibilità ambientale di quella mobilità sostenibile noi ne parliamo anche qui tante volte però oggi la bicicletta la casetta un simbolo straordinario con la mobilità sostenibile ed ancora anche qui riferimento al nostro parco noi abbiamo la Via Silente che è uno dei percorsi in bicicletta più estesi in Europa è un percorso straordinario lungo i nostri paesini abbiamo stiamo lavorando dei percorsi di Munda Bike con il direttore che stiamo lavorando in modo anche tecnico importante che possono diventare possono essere candidati ad essere nei circuiti nazionali nelle gare di Munda Bike nazionali quindi c'è un grande lavoro un grande sforzo che stiamo facendo proprio con il tema bicicletta Brumotti ha detto rappresenta il testimone ideale e la bicicletta la mobilità sostenibile è un modo per far conoscere il territorio proposta subito accolta dall'inviato di Striscia la notizia il Cilente è una terra da scoprire ha detto come sono arrivato ho visto un territorio con tanta voglia di ospitare e penso che il cicloturismo sia lo strumento ideale per promuoverlo alla conferenza stampa tenutasi al Ministero dell'Ambiente sono state preannunciate anche alcune novità da parte del Ministro Costa che ha annunciato la volontà di istituire una fiscalità di vantaggio nei territori dei parchi con la nuova legge di stabilità e una maggiore promozione il Presidente Pellegrino invece ha svelato che presto una delegazione cilentana sarà ad Oslo dove verrà siglato un gemellaggio con il Parco delle Balene La conferenza stampa di ieri mattina a Roma è stata l'occasione anche per riflettere sulle tematiche ambientali ha partito l'intervento di Antonio del Monaco parlamentare membro della seconda commissione sulle eco-mafie noi l'abbiamo intervistato purtroppo purtroppo anche il cilento non è lontano da quelle che sono possiamo dire queste manifestazioni di latura criminale e tra l'altro anzi bisogna preservare un'area così bella così e importante per questa passaggistica turistica e dobbiamo cercare eventualmente di evitare che questo tipo di manifestazione criminale possa continuare ad avvenire in questi territori purtroppo già di per sé la Campania ha avuto una brutta esperienza per quanto è quella della terra dei fuochi ecco dobbiamo quindi difendere il nostro territorio anche attraverso una collaborazione noi siamo un'area protetta c'è un parco c'è la procura c'è le forze dell'ordine vuole anche l'interessamento del governo centrale ecco ma anche i cittadini possono fare la loro parte ma sicuramente sì perché in fin dei conti noi dobbiamo risvegliare la coscienza civica se non si risveglia la coscienza civica noi dobbiamo cercare io dico sempre noi la mia generazione è una generazione di maledetti perché non siamo state né in grado di tirar fuori una dirigenza e né chiaramente siamo stati in grado di poter mantenere un contatto con la nostra terra anzi l'abbiamo soltanto inquinata e questo è qualcosa di brutto allora dobbiamo rivolgerci alle nuove generazioni affinché noi possiamo essere realmente bonificata tramite i ragazzi giovani e su questo sto molto riflettendo e tra l'altro ultimamente sto parlando in maniera chiara che noi siamo abituati a individuare i giovani e a etichettarli come i giovani che senza bidono spinale eccetera eccetera invece io credo molto nei giovani credo molto nei giovani anzi più che parlare di complessi ultimamente si parla di come si è di lema come si parla di complessi io l'ho etichettato un altro complesso come di l'antenna mi farebbe piacere parlare di risorse e infatti parlando di risorse io voglio parlare di sorgente dell'Enea sorgente dell'Enea che cos'è in fin di conto l'Enea quando andò via quindi da Troia portò con sé sulle spalle il papà e davanti i figli quindi io credo molto nei giovani che potranno realmente portare questo cambiamento cambiamento significa realmente portare noi e i figli futuri in una nuova terra in un nuovo orizzonte che sicuramente sarà ben lontano dall'inquinamento dell'ambiente dobbiamo curare l'ambiente non bisogna curare se stesso perché anche quello bisogna curare se stesso bisogna curare l'altro ma soprattutto il rapporto è io tu e il contesto quindi se noi andiamo a deturpare quella che è la madre terra o la casa comune come dice il buon come dice il buon papà Francesco vuol dire che chiaramente quello che facciamo poi ce lo ritroveremo e se inquiniamo vuol dire che saremo anche noi inquinati a Vallo della Lucagna per un intervento del consigliere comunale Nicola Botti sul piano di zona e in modo particolare sul micronido della scuola Luinetti ebbene in un post pubblicato su Facebook Nicola Botti mette in evidenza che il piano di zona S8 con comune Vallo Capofila aveva affidato alla cooperativa GEA il servizio di ludoteca denominato spazio bambini nonché il servizio micronido tutto è scaduto il 26 gennaio scorso è scaduto quindi il rapporto di affidamento e veniva concessa una proroga fino al 15 febbraio tanto in spregio alla legge dice Botti che non consente l'istituto della proroga per il rapporto di affidamento ricordo ancora Botti successivamente scaduta anche la proroga i servizi sono stati ad oggi svolti senza alcun titolo il tutto con prevedibili di ripercussione sia per la corretta funzionalità del piano che per la posizione dei minori in ordine alle coperture assicurative sono ormai finite dice Botti le parole in grado di raccontare secondo lui l'incapacità e l'indifferenza dimostrata da chi oggi gestisce il piano di zona che senza la nomina coscienza politica avvalla l'operato quindi il riferimento al comune Capofila di Vallo invita quindi tutti i genitori ad unirsi per far sì che tale situazione venga regolarizzata perché il benessere e la sicurezza dei bambini dice Botti è un'esigenza primaria nel Vallo di Diano per ammirare insieme lo spettacolo delle cicogne sono immagini in mozzafiato quelle che stamattina ci hanno regalato alcune cicogne in volo sulle campagne tra Polla e Sant'Arsenio un gruppo di ben 16 cicogne ha riempito il cielo azzurro di questa calda giornata di fine febbraio con voli e giochi nell'aria ali bianche e lunghi becchi davanti agli occhi di tanti increduli appassionati di bird watching e non si è presentato uno spettacolo offerto dalla natura e guaiabile a pochi le cicogne dunque confermano il loro legame stretto con il Vallo di Diano già 15 giorni fa era arrivato il primo esemplare di cicogna maschio atteso come ormai accade da diversi anni lo splendido esemplare aveva fatto capolino nelle campagne circostanti il traliccio Enel di località Termini a Sala Consilina per esplorare l'area e per preparare il nido non è stato facile però per lui salire sul grosso nido nel corso dei mesi invernali infatti rifiuti ed erbacce si sono accumulati sul traliccio Enel tanto da scoraggiare il maschio di cicogna a salire sul nido è stato grazie all'intervento di una squadra dell'Enel coordinata da Michele Cartolano che è stato possibile salire sul traliccio e ripulire il nido ora la bianca cicogna può lavorare all'alcova nella quale nasceranno i suoi piccoli il giovani maschio infatti stando alle immagini di stamattina ha a disposizione un nutrito gruppo di cicogne tra le quali scegliere la sua amata e siamo certi che la loro unione ci regalerà ancora tante splendide immagini gli amanti del bird watching dunque sono avvertiti nasi all'insù ed obiettivi pronti a scattare la cicogna è di nuovo nel vallo di Diano ed ora il libro dell'avvocato Franco Maldonato teste mozze che nei prossimi giorni sarà protagonista a Lussemburgo che l'Inghilterra fosse rimasta scandalizzata indignata per la uccisione di un deputato del regno delle due Sicilie in carica e per la copertura che Ferdinando II personalmente ritenne di dover dare all'assassino di quel deputato perseguitando i giudici che procedevano nei suoi confronti anziché agevolando l'iniziativa giudiziaria per gli inglesi rappresentasse una ragione per la quale non era più condivisibile la fedeltà alla Santa Alleanza ricordiamo che Inghilterra Germania Austria e tutto lo scacchiere delle cancellerie europee furono tutti concordi a Vienna nel riportare sul trono delle due Sicilie i Borboni che ne erano stati allontanati con l'esperienza murattiana e pur ciò nonostante quando il regno delle due Sicilie atteggiò la sua politica interna in maniera tale da far dire a Gladstone che era la negazione di Dio in terra beh io credo che in questo risieda l'indignazione degli inglesi e il primo isolamento internazionale di Ferdinando e di Casa Borbone abbiamo detto un libro storico ma in qualche modo di grande attualità credo di sì credo di sì perché anche in relazione alla decisione del 36esimo Salone del Libro di Lussemburgo può vedersi in questo romanzo storico il fortissimo legame che univa già in quel momento l'Italia al resto d'Europa e la risonanza che le vicende italiane giustamente riscuoteva presso le cancellerie europee e quindi sotto questo profilo mi sento di poter condividere la sua osservazione il prossimo 3 marzo la seguiremo a distanza la seguiremo naturalmente non appena lei rientrerà ci rappresenterà il territorio cilentano ma non solo rappresenterà insieme ad un altro illustre autore l'Italia questo importante evento che è la più importante fiera dedicata di quel paese in Lussemburgo nel quale c'è una comunità di 30.000 italiani che credo saranno in parte presenti al confronto che io avrò con la dottoressa Giovanna Agnello che è una funzionaria del Parlamento europeo e che mi intervisterà sui contenuti del libro Un'ampia intervista realizzata con l'avvocato Maldonato su questo importante appuntamento potrete seguirla sul nostro canale 7TV YouTube e naturalmente sui nostri social Ora da Agropoli dove è tutto pronto per la 48esima edizione del Carnevale tra gli appuntamenti l'attesissima corrida di domani sera sabato 2 marzo e ricordiamo l'evento sarà ripreso e proposto in diretta dalle nostre telecamere Si rinnova l'appuntamento con il Carnevale di Agropoli giunto alla 48esima edizione l'evento quest'anno avrà quali momenti clure sfilato in programma domenica 3 marzo e martedì 5 marzo prosegue anche l'appuntamento con i dilettanti allo sbaraglio che si cimenteranno nella corrida la sesta edizione che si svolgerà sabato 2 marzo al Pala di Concilio e le telecamere di 7 TV vi proporranno l'evento in diretta sono numerosi poi gli eventi collegati che renderanno la manifestazione più attesa dell'anno davvero speciale la tradizione del Carnevale ribadisce il sindaco Adamo Coppola continua anche quest'anno un impegno che è iniziato con largo anticipo rispetto al mese di marzo nel quale quest'anno ricade l'evento Agropoli come sempre si annovera tra i Carnevale di Cartapesta più importanti e rappresentativi della campania sicuramente un'occasione da non perdere da 27 anni spiega il presidente dell'associazione Il Carro Mario Piccarillo partecipa al Carnevale di Agropoli quest'anno con un po' di emozione in più perché lo faccio in veste di presidente ricco dunque il programma del fine settimana sabato 2 marzo ricordiamo al pala di concilio la corrida cura di Roberto Apicella domenica 3 marzo alle ore 9 in piazza Vittorio Veneto spettacoli con animazione e poi alle ore 15 prima sfilata dei carri allegorici si replica martedì 5 marzo in piazza Vittorio Veneto con gli spettacoli e la seconda sfilata e anche Sapri si prepara a celebrare il suo carnevale Sapri Maschera 2019 tutto pronto ecco per questo lungo fine settimana si inizia sabato 2 marzo e poi il momento naturalmente martedì 5 marzo l'appuntamento per sabato 2 è il raduno delle maschere in piazza Plebiscito alle ore 15 domenica 3 invece il raduno in piazza Plebiscito alle 14 e 30 il tutto in attesa del martedì grasso per celebrare il carnevale 2019 momento atteso naturalmente da grandi e piccini in attesa del carnevale ci fermiamo qui brevissima pausa pubblicitaria subito dopo la nostra informazione sportiva grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti